sono online ciao ragazze e bentornate sul mio canale aspettate che aggiusto anche la aggiusto tutto ok attimino che ancora non esce la live qui sul canale così mi collego anche dal pc ed eccomi qua ciao robie mi stavi aspettando oggi mi sa che ho fatto tardi che ho fatto tardi tre minuti pardon allora stavo un po organizzando tutta la situazione anche perché ovviamente col beat the embroidery ho preso un bel po di materiali e ce l'ho qui sempre davanti a me allora ciao ciao a tutti ciao carola ok allora ragazze come da copertina come avete visto andremo a realizzare un progettino al beat the embroidery ho pensato di realizzare una un arcobaleno con un inizio con un cuoricino ciao kri benvenute a tutte oggi è diventata ormai una tappa fissa allora creativa ciao angie ciao lady b un bacio a tutte e quindi niente partiamo con subito con il lavoro si la base del lavoro adesso vi mostro tutto ho messo soltanto il tappetino lindo e pulito in modo che piano piano vi mostro tutto tutti i materiali che ho qui vicino a me perché davvero solo per organizzare questa live sono sto già da un'ora organizzare materiali cercando appunto di non dimenticare nulla niente procediamo a step allora io per per la base vado ad utilizzare per una volta il bead foundation della bead smith ed è questo qui l'ho acquistato sul sito di luvibigio un po di tempo fa ed era arrivato giusto il momento di utilizzarlo e di testarlo insieme a voi così vi do anche le mie prime impressioni sul sul bead foundation in passato ho realizzato altre spille che sono già presenti sul canale una forma di uccellino che ho chiamato alfonso poi c'è la farfallina se non mi ricordo neanche dei nomi che do alle creazioni che questo è questo è proprio il colmo comunque ho realizzato già due spilline con cui con la tecnica del bead and brodery e adesso andiamo realizzare insieme una cosina carinissima o almeno per me sarà carinissima più che altro e pregna di significato andiamo a realizzare appunto aspetta guarderò non ce l'ho qui puoi utilizzare anche il feltro oppure anche la lecistive staff se hai quella basta qualcosina che sia anche il tessuto poi puoi tranquillamente andarlo ad indurire con i su con i passaggi successivi ecco la spilla alfonso è stupenda ti ringrazio robbie si il prezzo davvero conveniente un euro e 60 ovviamente è piccolino non so se notate le dimensioni sono esattamente 14 per 10 centimetri però per la spilla che andremo a realizzare oggi avanza anche tantissimo anche perché voglio realizzare una spilla davvero piccolina e si anche l'alcantara può può va bene basta che dopo cioè metti sempre la parte retro per vai a ricoprirla per bene sul retro ecco non è nulla cri un po di tessuto dai non riuscite a noi e insieme a noi poi tessuto uno stracetto qualsiasi cosa sì perché indispensabile per fare delle spilline io la trovo davvero carissima volevo mostrarvi anche le spilline ecco quello che mi sono dimenticata mi allontano mi allontano due secondi dalla dal telefono sono sempre nella stessa stanza e sentirete ugualmente la mia voce volevo mostrarvi le spilline che vi parlavo quella del dell'uccellino e quella appunto della farfalla eccole qua meno male che ce l'ho tutte quante qui le reazioni così vi mostro così per mostrarvi o le sto ritornando ecco allora questo è l'uccellino alfonso poi per chi si è perso il tutorial ovviamente lo trovate sul sul canale e questa è la farfalla daia ecco non mi ricordo il nome daia la farfallina con ovviamente sempre con la spillina stesso discorso anche per alfonso l'alfonsino l'amico di nostri amico di tutti e queste qui avevo utilizzato la legis di staff per realizzare questi queste due spilline adesso ne andremo a realizzare un'altra con l'arcobaleno io prima ovviamente prima di disegnare sulla sulla bead foundation io sempre vado ad utilizzare un foglietto in modo da da iniziare a fare il disegnino diciamo base quindi prendo una una penna una matita quello che avete in casa e vado a dare forma alla mia spillina io pensavo a realizzare mi è venuto all'affanno soltanto per alzarmi un attimo mi sto sto lievitando come come un porcellino allora chi è alfonso ecco caro lo si si lo trovi sempre sul canale robilt il il tutorial della farfallina allora io pensavo di realizzare come dicevo prima qualcosina che non sia neanche tanto grande neanche tanto vistoso come come spillina vorrei proprio che fosse appunto un piccolo simbolo quindi opto per inizio a disegnare qualcosina per un cuoricino un cuoricino non voglio un cuoricino speculare quindi vado a realizzare questa parte qui un po' più piccolina e l'altra parte del cuore un po' più bombata in modo da avere questa sorta di di questo cuore asimmetrico che mi piace tanto come come idea quindi un cuoricino del genere e poi dopo dal cuoricino fuoriesce questo arcobaleno quindi vado a realizzare più o meno la prima riga del dell'arcobaleno ovviamente se non se non è carino andremo a fare delle delle modifiche allora questa è la prima riga so disegnare come come un bambino dell'asilo anche perché oggi su facebook ho visto un video di una di una piccola artista che con le tempre creava dei disegni spettacolari e adesso mi ritrovo a fare il cuoricino con un arcobaleno aspettate che vi leggo ciao monica benvenuta devo lasciare subito ma guarderò più tardi ok un bacio allora rieccomi oggi connessione scarsina a cavolo anche la mia va e viene come connessione si robia era troppo carino quel video c'era la bambina e spettacolare allora quindi il primo il secondo il terzo lo facciamo arrivare fino a qua quarto colore e al limite anche un quinto colore poi vedremo solo che il quinto colore poi si fermerà proprio in questo punto non so se poi realizzarlo o meno diciamo il disegno iniziale più o meno è questa l'idea di di base che ne dite fa fa pietà e compassione o mi piace come come disegnino poi ovviamente avevo pensato di realizzare questa parte qui tutta rossa con diverse sfumature di rosso e poi ovviamente da questa parte qui ogni raggio colorato ovviamente a modico arcobaleno quindi non so il primo fucsia poi rosa poi giallo verde celeste viola in modo da creare questo arcobaleno che fuoriesce dalla dal cuore mi sembrava un'idea carina una spilla carina piccina tenendo conto che sarà proprio piccolina questa è la base della spilla da agganciare o su una borsa o anche su una magliettina semplice non so come come simbolo come simbolo di tutta di tutta la vicenda che sta che sta succedendo in questi giorni in tutto il mondo e poi pensavo sotto ovviamente su ogni su ogni archetto dell'arcobaleno pensavo poi dopo alla fine di aggiungere dei piccoli bicono dei piccoli biconcini oppure delle goccine non so qualcosa che resti pendolo e sempre luccicoso quindi perciò pensavo ai bicono della swarovski sempre delle delle stesse tonalità dell'arcobaleno in modo da andare a impreziosire la parte finale della della dell'arcobaleno niente vi piace ok allora andiamo avanti facciamo tutto step by step io spero di riuscire almeno oggi di di realizzare almeno la spillina poi se si un simbolo di speranza era proprio quello che volevo realizzare oggi insieme a voi e così così lo possiamo realizzare tutte e abbiamo tutte quante qualcosa che ci accomuna un piccolo oggettino che non lo so serve anche per per distogliere un po l'attenzione cioè nel senso per non io per esempio per me se penso sempre le stesse cose mi mi viene un'ansia pazzesca non riesco a fare più nulla quindi la creatività mi non mi fa pensare tengo la mente positiva e cerco di andare avanti perché se no se non faccio nulla mi blocco e vado un po in tilt quindi niente proseguiamo con questo con questo simbolino di speranza ovviamente così non si nota nulla io andrò a fare in questo modo aspettate che taglio taglio la carta in eccesso in modo che ho già la parte ok mi taglio già la forma in modo che dopo non ho difficoltà a rifare nuovamente la stessa cosa anche sulla sulla bid foundation ovviamente potete anche disegnare a mano libera questo mai va a fini che va che faccio dei dei casini quindi perciò prima disegno su carta e poi e poi riporto la forma sulla sulla bid foundation ok voi se siete bravi a disegnare disegnati direttamente sulla lesi o sul feltro o quel che sia ok frattempo ritaglio tutto chi è che sta sta perlinando insieme a me o al momento guardate soltanto quello che combino ok poi un po sistema un po il tutto ok quindi questa è la spillina non lascio neanche tanto spazio cioè prendo giusto lo spazio necessario per andare a fare poi il contorno no tenete conto che almeno qualche millimetro qui nei bordi ci deve assolutamente stare e quindi niente vado con la penna così vado a ricreare ovviamente la stessa forma ovviamente poi dopo la penna verrà verrà coperta delle perlene vicino a me ho anche dei 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 pennarelli così dopo posso anche decorare la parte della bid foundation in modo che sia tutto colorato ok quasi terminato poi invece per la parte interna prendo soltanto la forma del del cuoricino sperando che si note si nota si è tenuto un pochino si ok dai più o meno ci siamo allora disegnare stavo scrivendo ok ok mi fa compagnia lady e anche angie perfetto così al momento disegniamo mi sembra mi sembra caruccio ok sono soddisfatta ancora devo far nulla ma sono soddisfatta allora per quanto riguarda invece le righette interne vado a farle con la matita anche se voi non voi anche se sbaglio non non posso andare a cancellare perché non mi sono portata una gomma quindi niente una gomma per cancellare però vado piano piano e vado a tracciare le le righette ovviamente tenendo in considerazione che poi queste la sfumatura dell'arcobaleno io vado a realizzarlo con delle rocaille 11.0 no quindi allora lo spazietto sarà proprio per quanto riguarda la rocaille 11.0 tenendo conto quello mi traccio appunto le linee ok anche se si nota poco magari si nota poco in videocamera vero? no qualcosa si vede ok ok la seconda poi avevo messo la terza mi sa che vengono meno righe perché mi sono un po' vengono sempre si quattro cinque righe ok questo riparto da qua dai all'incirca si poi valutiamo di volta in volta quando quando andremo ad inserire le prime perline per quanto riguarda la prima sfumatura andremo a contornare tutta la parte questa qui poi piano piano procediamo step by step in modo da vedere anche quanto spazio cioè ci rimane qui alla parte interna del della spilla un attimino che vi leggo maglie di accorelli per i ritocchi sulla bead foundation e non ce li ho Angie quello è il problema che mi devo arrangiare con quello che ho in casa sì sì ho fatto la stessa cosa anche con l'uccellino alfonso Roby perché a mano libera non mi andava di disegnare direttamente sulla lisi allora come vi dicevo prima vado a prendere i colori anche se ho a parte questi qua meno che li prendo un po' tutti avremo bisogno del verde del celeste poi il giallo cavolo il giallo non ce l'ho vedi quindi qualcosa colore qualcosa no aspettate no qui non ce l'ho dovevo tirare prima fuori in questo tempo ho i Dragon Ball GT lo scuccio di Dragon Ball ah questi della Giotto al limite dicevi questi qui Angie per caso questi c'è i pennarelli questi qua perché questi volendo ho un arancione non so se scrivono perché questi stanno qui da secoli visto che nessuno li utilizza più ok vediamo un po' se se so se vanno bene si sono un po' seccate quindi devo un po' faccio un testo qualcosa per vedere se no infatti si sono seccate mi sa che li devo buttare tutti il verde funziona il rosa no il celeste no va bene non vanno bene li buttiamo come non detto vado di matitine queste qua e e forse ciao Maria Vita allora se uno non sa disegnare puoi prendere anche cioè puoi prendere un'immagine su Google la stampi ovviamente deve essere soltanto dei contorni e poi vai con la carta copiativa ce l'è presente? poi basta tracciare diciamo il bordo sul disegnino e con la carta copiativa e ti vai a rifare il disegno sulla lesi allora dicevo con il rosso vado vediamo un po' se no mi sa che non non colora un ciufolo no più o meno vado a calcare un po' la mano non c'ho i colori vabbò ci arrangiamo ci arrangiamola meglio più o meno è diventato rosa invece di bianco però vabbè meglio di niente voi se avete i pennarelli ovviamente leggero leggero andate a colorare se no questi qua aspettate ho questi ad olio olè mo' cascava dentro questi ad olio però non c'è il rosso bene sempre dell'aggiotto ah eccolo i ritrovamenti vediamo se va bene così cercando di non fare non fare danni io lo faccio questo passaggio perché magari tra una perlina e l'altra si nota quel bianco e è un po' bruttino da vedere lo faccio in questo modo vediamo un po' dopo tolgo l'eccesso anche se non è mi è andato questo colore qua questo pastello ad olio però che vogliamo qua ok aspettate tolgo l'eccesso perfetto mica c'è il rosso vicino alle mani no allora non è venuto omogeneo però ce lo facciamo ce lo facciamo andar bene allora Maria Rita sto realizzando una spellina con il bead foundation o con la resistive stuff o col feltro quello che hai in casa un cuoricino con con il rim cioè con una la e la non si abbaia quando si fa la live non si abbaia amore no vuoi un biscotto ci mangiamo un biscotto insieme sì ok devo calmare il cane se no si inizia ad abbagliare la fine dicevo il cuoricino che dal cuoricino fuoriesce appunto questo arcobaleno un simbolo un simbolo per per portarlo tutti quanti insieme non so una cosa che ci unisce allora ritornando a noi per le perline rosse io avevo pensato sia questi qua i cabochon con la gemmina rossa un attimino che spacchetto per fare qualcosina di dicolorato tipo non so metterlo qui alla punta oppure qui in alto per realizzare appunto un lato del cuoricino poi tutto l'altro tutto l'altro lato vado ad inserire le perline oppure per chi non ha questi con il castone sotto a mo' di goccia potete utilizzare anche un rivoli una goccia tipo per esempio adesso ho una goccina rossa stesso discorso possiamo andare a a incollare la ila ti caccio fuori possiamo andare ad incollare la goccina o il rivoli sempre sulla bead foundation per quanto riguarda i rivoli o le goccine che hanno una leggera bombatura rispetto magari al cabochon piatto si incide la lesi o la bead foundation a mo' di crocetta in questo modo io utilizzo sempre la colla questa qui l'artiglio che è un mega tubettone un pizzico di colla artiglio e poi dopo faccio faccio asciugare per bene il cabochon sulla lesi stiff stuff se volete aggiungere questi geni di cabochon alla creazione per renderla molto luccicosa ciao monietta realizza anche tu la spillina insieme a noi qui lascia perdere dove si vedono le parti bianche i colori si Angie l'ho lasciato perdere perché sennò combinavo un po' strocchio allora quindi io vi dicevo andrò ad utilizzare questo qui con il castone così non vado ad aggiungere neanche colla ma il castone ha due foretti qui alla base quindi vado a rientrare all'interno con ago e con il filo così vado ad impuntare il castone si oggi è bead and brodery hello it's you oggi andiamo a realizzare un cuoricino con un air un rainbow heart è giusta la pronuncia? faccio un po' schifo in inglese poi per quanto riguarda le altre perline pensavo cipollottini 3x2 2x3 rocail da 11 bicono da 3 bicono da 4 tutto quello che avete in casa che ha la tonalità rossa va bene tutto anche rocail 15.0 qualsiasi cosa va bene anche se il rosso non è proprio della medesima della medesima nua cioè un po' più chiaro rispetto al cipollottino non fa nulla rende ancora più carino l'effetto del cuoricino allora non ho le gocce nemmeno la lesi niente feltro non ho niente manco le perline non ti posso neanche dire vieni a casa mia come non è niente dicevo prima Cristina un pezzettolo di stoffa qualcosa a parte le gocce puoi mettere anche solo cipollottine o rocail cioè quello che è in casa va benissimo perché per il beat and brother puoi utilizzare qualsiasi qualsiasi tipo di materiale non ci sono limiti a parte che tu lo sai non è che te lo devo stadio poi i cipollottini possiamo utilizzare sia quelli diciamo color intenso ma anche quelli lì che hanno un po' che sono un po' trasparentini danno davvero un bello effetto quindi io mo' qui sul tavolo metto un po' di cipollottini cipollottini questi qui anche quelli trasparenti così inizio ad impuntare l'ago inizio a cucire qualche perrina sul lavoro perché sennò parlo solo in questa live e non è il caso poi rocail 11.0 ho queste qui rocail ovviamente da 10 da 15 anche da 8 va tutto tutto bene allora belli questi elementi con i castoni non ne ho neppure uno Angie va bene anche un caboson come dicevo prima anche un rivoli un rivoli che sia da 12 o uno chaton da 8 va benissimo basta che sia della tonalità rossa oppure se non hai nessun caboson puoi utilizzare soltanto perline e cipollottini cioè l'effetto viene sempre molto molto carino io le gocce le ho ma bianche anche nel cuoricino secondo me lo andiamo ad enfatizzare sempre se riesco a parlare sempre utilizzando soltanto la tonalità rossa diverse sfumature ma il rosso poi per quanto riguarda poi la parte qui dell'arcobaleno ovviamente ogni strisciolina andrà a realizzare del colore per quanto riguarda questa parte qui pensavo adesso vi dico anche le perline per quanto riguarda l'arcobaleno ho preso diversi eccoli qua pensavo a tutte queste colorazioni che sono un po' oppure queste qua che sono selion che hanno quella quell'effetto molto molto carino tipo per esempio il pesca di questo selion oppure questo questa sorta di di turchese si potrebbe tranquillamente utilizzare anche un rosa tipo questo qua e un opac pink per il rosso possiamo utilizzare questo qua che è un opac aspetta che ho scritto qua opac last red cerise cioè tipo cerigia poi diciamo tutti quanti con la stessa finitura di perline tutte queste tutte queste nuance o selion o opache che che vicino stanno proprio da da dio tipo anche questa che è molto carina questa per esempio già è differente da questa qui che vi mostravo prima questa più tendente al verde infatti questo è un selion celery davvero molto carino come colore se no questo qua è un opac rainbow blue turquoise che vicino cioè queste tre tonalità ci stanno perfette questo per esempio è un selion tomato soap la mia pronuncia in inglese fa sempre un po' schifo e l'arancia no no l'arancia no più colori rosa verde celestino colori molto tenui ok allora aspetta roberto puoi fare il cuore bianco e lo contorni di perline verdi rosa ah sì vero bella idea monia puoi anche realizzare appunto il cuoricino con con i colori della della bandiera italiana perché no realizzare appunto il cuoricino e poi dopo andarlo a dividere in tre parti e realizzare appunto la bandiera a forma di cuore l'idea è molto carina brava monietta brava un applauso a monietta eh 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 io sarò solo cipollotti e perline 8.0 sì va benissimo Angie l'embrodi puoi usare quello che vuoi non quello che hai in casa va benissimo perciò lo adoro l'adoro come tecnica perché non non ti limita per nulla ah anche sto verde è molto carino un verde questo che è? opac clustered light green questo pure è molto carino un opac niente tolgo tutto perché sennò non metto a fuoco una cippa e ritorniamo con le perline rosse perché andremo a fare prima il cuoricino rosso oppure per chi lo fa un formato versione bandiera avrà appunto i colori verde bianco e rosso allora partiamo l'ago dove l'ho messo bene pensiamo bene aspettate fatemi vedere che cosa sto inquadrando perfetto così il filo ah il filo ecco non mi stavo ascoltando una cosa importante il filo vado ad utilizzare il filo della miyuki o va bene anche il sonoko il one ji va bene anche il sozue si il sonoko della sozue sozue poi quell'altro qual'era? mmm ce n'era anche un altro che non mi viene in mente il silon ecco potete utilizzare tutti questi fili da tessitura morbidini ok io ne prendo sempre un metro all'incirca perché non taglia sta forbicetta ok vado a infilare il filo ovviamente nella crona iniziamo il cuoricino ovviamente se avete per esempio questi della miyuki che sono disponibili in diversi colorazioni a seconda della parte in cui andrete a puntare potete utilizzare anche se avete il filo rosso utilizzate anche il filo rosso però non va benissimo anche quello bianco si vede il pennarello? ah grazie Carol dimmelo perché sennò non mette a fuoco il cellulare se vedete qualcosa oltre alle perline sennò succede un qui qui qua allora per l'inizio non ci fate caso che ho le mani un po' sporchine perché ho toccato vari pennarelli vari ok per l'inizio del lavoro io faccio in questo modo prendo il filo lo blocco e poi lo giro attorno due volte e poi ripasso con l'ago sotto a questi due filetti in modo che vado a realizzare un nodino ok tolgo i fili dal dito vado a realizzare un nodino aspettate ok ed ecco qui il nodino so se è noto poi posso anche rifarlo nuovamente in modo che il nodino diventa un po' più cicciottino ok e poi semplicemente vado a bloccare il filo quindi ripasso è bella turetta comunque la la bead foundation ripasso all'interno un paio di volte per andare appunto a bloccare il filo ovviamente il filo con il nodino resta sempre sul retro do qualche punto anche nel centrale del cuore e poi mi posso spostare sul bordo del cuoricino io ho sempre l'ago storto devo un attimo a realizzare ok e poi mi sposto sul bordo ok fuoriesco proprio sulla linea fuoriesco proprio in quella sulla linea ok a questo punto un'altra cosa che mi sono dimenticata di dire per quanto riguarda i materiali potete utilizzare anche la cannottiglia per andare appunto a contornare il vostro cuoricino io credo di averla qui in qualche punto del del tavolo aspettate per dare un effetto ancora più carino al cuoricino questa è la cannottiglia e se non l'avete in casa non fa niente si può anche fare fare senza è tipo una sorta di di lastighetto non so se si nota in video però ripeto se non se non l'avete in casa non va a nulla adesso andrò a fare che ne so il bordo con o possiamo farlo con solo le rocaille 11.0 rosse oppure possiamo anche utilizzare un altro colore che va a dare un contorno netto definito tipo che potrebbe essere che ne so o il nero o il bianco no un colore un po' più scuro che va a contornare il cuoricino io provo con le rocaille queste qui rosse che sono belle belle intense queste sono le opac pepper della toko le 11.0 sempre aspettate che le sposto perché le metto sempre qua vicino al lavoro e poi ovviamente come secondo step una volta fatto il bordo vado a cucire anche questa bellissima cucina sul lavoro allora per iniziare io inserisco due rocaille 11.0 sul lago e sul filo porto il tutto alla fine in modo che vedo quanto spazio prendono appunto queste due perline e poi in punto in filo lago in prossimità proprio della perlina in questo modo ho agganciato appunto le due perline poi ripasso da quest'altro cioè ripasso in questo punto qui stringendo sempre bene il filo il buco con lago da questo punto sempre se becco il buco ecco qua ripasso sempre in prossimità delle due perline e poi ripasso nuovamente in queste due perline appena inserite ok adesso andrò a inserire sempre una perlina per volta quindi una perlina una rocaille la porto sempre alla fine del filo ovviamente per chi è anche nelle prime armi questa cosa di portare la perlina alla fine del filo vi aiuta tantissimo perché ovviamente vi aiuta a capire le distanze e inserite l'ago nel punto giusto quindi inserisco l'ago sempre vicino alla perlina ed eccola qua e adesso ritorno indietro soltanto di una perlina quindi fuoriesco con l'ago e con il filo da questo punto qui in modo che ripasso in queste ultime due perline più che altro ok sto lontano dal lavoro e devo assolutamente mettere gli occhiali perché non ci vedo più e ripasso vedete in queste due perline le ultime due ok e stringo in questo modo e continuo ovviamente così inserendo sempre una sola perlina per volta quindi una perlina la porto giù sto attenta sempre ovviamente al bordo che ho tracciato prima con la penna e rientro di nuovo con l'ago all'interno di questa della bead foundation poi ritorno indietro sempre di due perline e vado avanti così davvero semplicissimo ok ok si nota? proseguo così ciao maria rosaria benvenuta che combini di bello? io sto realizzando una spillina allora sempre il solito discorso inserisco una perlina per volta la porto alla fine e poi ritorno indietro sempre di due perline andate con la lavorazione ok io non vedo l'ora di indossare questa spillina ok un'altra perlina io proseguo sempre con i medesimi passaggi l'unica cosa che odio è quando si aggroviglia il filo però per ovviare questo al limite potete anche ritagliare ovviamente lasciando sempre un po' di spazio ritagliare il tutto cioè in forma tonda in modo da non lasciare i spigolini così il filo non si aggroviglia però io ho la testa dura e continuo così ok ritorno indietro di due e ripasso sempre in due perline ho parlato per 41 minuti cavolo dici ma che ti sorprendi ti sorprendi ancora che parli da sola per 40 minuti no più che altro volevo illustrarvi più che altro il materiale poi se oggi non riesco a realizzare diciamo una parte della spill ovviamente rimandiamo l'appuntamento domani e completiamo sempre insieme la spillina in questo modo chiacchieriamo e si basta che lo lo tagli a modo a modo di tondo io oggi non riesco a parlare a modo di tondo in modo che dopo non si aggroviglia più allora ho inserito sta perlina e poi ritrovo indietro ok finirò a pasqua però avrò una spillina da sfoggiare a pasqua ah ragazzi un'anticipazione si potrebbe definire così vabbè mica tanto sto da giorni a dirvi che che sto lavorando all'editing del del video del sole di primavera l'ho terminato ieri ho fatto tardissimo per terminare il tutorial e al limite quando quando termino appunto questa questa live dopo un'oretta metterò online anche il video tutorial del sole di primavera così per chi volesse cimentarsi anche con quel progettino lì c'era disponibile e può realizzarlo nelle nelle colorazioni che preferisce io mi sono divertita a crearlo nuovamente perché quel progetto l'adoro ok avanti allora io niente per linea oggi sto stirando no mario sare chi te lo fa fare non stirare butta tutto in aria perché sono così buono non so dove la felpa o dove la camicia fai la finta tonta la gnorri no? mi tieni conto che a casa anch'io stiro, lavo, cucino dopo una certa inizio a sclerare infatti quest'ora quest'ora di perlinaggio e anche perché se non realizzo una live sono sicura che dopo non riesco a perlinare durante la giornata perché poi vedo che ne so una cosa in casa che devo devo stirare o devo stendere o devo fare quello o devo fare quell'altro va a finire che poi dopo non combino nulla con le perline ma faccio soltanto la colf di casa del prete e quindi mi sono chiuse in camera così per un'ora per un'ora nessuno mi rompe le scatoline aspetta che ti lengo ti lengo sì mi è piaciuto tanto quel progetto mi fa piacere sì prima i doveri e poi il piacere solo che il piacere in questi giorni se non mi chiudo in camera non riesco a perlinà che poi stanotte sono andata a dormire che erano le quattro per vedere una serie tv e poi stamattina alle nove gli occhietti si sono aperti cioè mi sto fan che vecchia non riesco neanche più a dormire tantissime ore dico questo perché i miei nonni massimo dormivano che ne so quattro cinque ore a notte ed era un lusso no? io invece mi sono sempre fatta otto nove dieci ore di sonno selvaggio aspetta grazie laguna blu tu sarai là dove l'hai messa? l'hai rinchiusa da qualche parte? no no Maddi è al lavoro purtroppo oddio è l'unica è l'unica persona che va al lavoro in casa perché il resto siamo tutti fermi e perché lei lavora in un'azienda un'azienda alimentare quindi deve per forza e quindi lei si sta sacrificando per tutti noi infatti ogni volta che va al lavoro gli faccio grazie Maddalena e lei fa ma vuoi smettere? no vabbè grazie perché senza di te stavamo già sotto un ponte in quarantena ok ok andiamo avanti con le pronunzie l'hai visto ieri? chi l'ha visto ieri di Harry Potter? io ho visto sia Harry Potter e sia Pechino Express facevo c'era una pubblicità all'alta saltavo di qua e saltavo di là tra un canale e l'altro ok sono quasi arrivata alla punta allora che si fa di bello? sono passata a salutarvi ciao Anna Maria sto realizzando una spillina insieme alle ragazze un cuoricino con un arcobaleno sul retro lo so mi andavo di realizzare visto che in questi giorni ho visto tantissimi balconi con tanti arcobaleni con la scritta andrà tutto bene mi faceva piacere realizzare un progettino qualcosa come un cuoricino con un arcobaleno che un po' un po' ricordasse anche il momento che stiamo vivendo però perlinando riusciamo un po' a un po' a superare il tutto riusciamo a distoglierci l'attenzione dalle cose brutte che stanno succedendo in questi giorni e come dicevo prima meno male che ci sono gli obbie perché sennò non so non so come avrei fatto ok ho inserito anche l'ultima perlina e sono arrivata appunto alla punta ok poi ritorno sempre di due e le blocco ovviamente quando devo cambiare direzione le ultime due perline ripasso nuovamente due volte e rinfilo l'ago sempre nella parte dove è presente l'ultima perlina e poi mi sposto con l'ago sempre in prossimità di questa perlina però sul laterale vedete cioè vicino laterale in modo che da qui in poi posso andare avanti e realizzare anche l'altra parte del cuoricino allora brava giù grazie allora bello fare la spilla benvenuta vita io faccio diamond lo devo a questa pure io caro il diamond ogni volta che mi dici che steffa il diamond io voglio farlo anch'io ma deve essere rilassante poi di nuovo siccome diciamo è come se cioè io oggi non ci faccio parlare non ho i problemi oggi non ho i problemi comunque siccome sto riniziando una nuova fila posso inserire nuovamente due perline ce l'ho fatta ho detto una frase però questa volta l'ho portata l'acqua infatti già mi sto già salivazione a zero pardon mi devo fare un sorsino così almeno e dai mi devi dare il link carol di dove li acquisti tu il diamond ok dico domani allora ciucchettona si la prossima volta invece dell'acqua mi porta il vino così faccio un brindè qualcosa di forte non so allora cosa brick stitch Anna Maria non ho capito io mi sa che devo tagliare questo perché sennò non va a finire che è tra un po' sclero ok sempre in modalità tonda non trannuncio il filo ok qui ha voglia a fa spille spilline e cosine varie ok la protonda anche qua trovo con l'angolino pure qui è perfetto almeno un po' si nota di più anche allora domani mi porto il vino così mi vedete anche un po' più allegra del solito ah ah lì li prendi tu ok si allora in questo periodo a parte che in questo periodo qualsiasi cosa no adesso solo massimo generi alimentari possiamo acquistare di prima necessità oppure farmacia o altro quindi per il momento lo shopping attende anche le asti online quanto mi divertivo a fare le asti online anche di notte io infatti appena passa sto periodo mi darò lo shopping selvaggio allora una nuova perlina e mi rinfilo dentro ok aspetta che ti leggo vita se fossi qui ti avrei offerto il mio mandarinello mmm io e te immagino le risate no una volta io e mia cugina abbiamo fatto siccome a casa di nonna non mancava mai nulla no ogni volta che andavamo lì tutti i cugini tra una cosa e l'altra mangiare ci stava sempre tutto a volontà no una volta abbiamo preso una bottiglia di limoncello ce ne siamo chiuse io e lei in bagno e ci siamo scolati tutta sta bottiglia già io e lei di natura siamo molto molto positive molto dei vulcani attivi no ecco dopo il limoncello eravamo ingestibili mi sono fatta tante di quelle risate quel giorno che poi nonna c'ha bisogno di bere questa bottiglia e mi fa ma che state a fa e noi e noi siamo scoppiate a ridere e lei mannaggia voi sono ricordi belli dai sono cose di gioventù si può chiamare vecchia no però avevo mi so quattordici quindici anni ora ne ho 33 33 trentini entrano a terrento tutti e tre 33 trotterellando ok aspetta Maria Rosale che ti leggo allora si viene anche carola andiamo tutti insieme prometto che ho perso la parte iniziale del lavoro e allora ti chiedo perché non lavorare a due perline per volta non è la stessa cosa o direvo solo all'inizio ho fatto sempre due perline e poi una perlina per volta credo che nella resa finale cioè il lavoro venga allineare no per esempio anche per quanto riguarda le curve inserire una perlina e fissarla sul lavoro ti dà la continuità del lavoro se invece in questo caso invece di andare a inserire una perlina ne inserivo due dopo venivano dei piccoli cioè delle piccole perline che non davano continuità al lavoro ma andavano a creare tipo per esempio qui già sono fuoriuscita un pochino no questa perlina qua è un po' più bassa rispetto alle altre qui dà la continuità e qui mi sono rispostata un pochettino ho fatto un piccolo errore in questo punto però va bene dopo andrò a sistemarlo dopo in un secondo momento credo per un fattore di continuità tutto sta nell'inserire una sola perlina per 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 ecco già ho preso qualcosa dai per continuare il lavoro ecco quello volevo dire mi sono spiegata bene ok andiamo a inserire un'altra perlina solo che queste pelle me le devo mettere da quest'altra parte perché ogni volta devo lasciare il lavoro ok ah meno male io penso sempre di non essere chiara quindi ripeto sempre le cose centomila volte poi dopo specialmente con i tutorial a voglia taglià perché ripeto sempre lo stesso passaggio cento volte poi una volta che avete capito diciamo la distanza tra una perlina e l'altra non serve neanche inserire la perlina cioè alla fine del lavoro basta inserire la perlina sull'ago e poi rientrare direttamente nella nella bead foundation bisogna fare un po' di pratica bisogna fare un po' di pratica e avere un ago di vitto perché ogni volta questo si va in fila qua nel bordo ok ah una tira l'altra sono come le ciliegie buono allora solo che io non posso neanche bere tanto per il fatto del nickel se no mi si alza il livello del nickel nel corpo e dopo sto uno schifio quindi non mi posso neanche dare all'alcol non posso mangiare non posso bere che triste realtà non so che tra poco ho terminato anche il filo nooo sicuramente si è grovigliato ok allora sempre chiarissima tranquilla cucciola la mia è bellissima Angie sei un amore cioè ieri mi avete fatto emozionare non mi fate emozionare anche oggi che vi ho detto che sono un po' sensibile in questi giorni allora fa mare al fegato vero Roby però dai un bicchierino ogni tanto non cioè non tutti i giorni assolutamente non me lo posso neanche permettere tutti i giorni ma neanche tutto il giorno allora come ti capisco con l'allergia al nickel a macello si lo contiene quasi tutto e molti non se ne rendono neanche tu conto cioè io ho un trauma ogni volta che devo cioè che devo andare fuori a cena un trauma ogni volta io neppure posso bere già un bicchiere di birra mi gira la testa e scende la pressione no io la birra mai ho mai stata un'appassionata di c'è di birra l'unica cosa che mi manca è il Bayliss il Bayliss mi manca da morire mo sto facendo sto dicendo proprio direttamente la marca ma con quello mi manca tanto un bicchierino di Bayliss oppure il brachetto io adoro il brachetto le cose dolci che sei stupida che ti prendi le cose amare no, tutto quello che è dolce qualsiasi vino rosso dolce io lo adoro ma non si può ed è però va bene già sono frizzantina di mio quindi non fa niente il tempo continuo e forse riesco a fare il contorno del cuoricino anche se ci ho messo cosa ci ho messo? oh già è un'ora cavolo oggi la live è volata se vogliamo sta un altro po' io ci sto voi avete da fare? aspettate che devo sta venire il retro del lavoro sta venire anche molto questi sono i primi punti che e poi questo invece tutto il contorno del cuoricino allora aspettate che leggo qualche messaggino che me ne so persa qualcuno no ha ragione Angela ma Roby grazie vi mando un bacio ad entrambe allora giusto un bicchierino ogni tanto poi con i limoni e mandarino biologici e provenienti dal nostro sud fantastico siamo in compagnia io se bevo anche un goccio di vino bianco e rosso divento tipo pimpa oh fai le meline rosse ma il brachetto è buonissimo mi piace un brachetto licoruso mmm buono eh lo so Angie sono buoni, sono dolci non te ne rendi neanche conto e ne tracanni tanto e che dopo fanno malissimo io però non tocco nulla mi piacciono perché in passato li ho assaggiati quindi lo so cosa cosa mi perdo stesso discorso della nutella io non posso mangiare la nutella quindi lo assaggiate in passato so di cosa parlo però me la devo me la posso soltanto sognare la nutella io la fumà non fumo bere non posso mangiare le cose che mangiano tutti neanche quindi allora allora io non ho non ho nulla da fare ok Roby se vuoi ci facciamo un'altra mezz'oretta di live anche perché al momento devo fare soltanto cioè ho fatto solo il contorno del cuoricino non ho fatto granché di perlinaggio però vi ripeto se per oggi non riesco neanche a completare la spilla faremo cioè farò un altro episodio domani domani che giorno è ragazza? mi sono persi i conti cioè non so più che giorno della settimana è anche perché sono tutti quanti uguali non ci sta differenza mi sa che tra poco devo cambiare il filo perché è pochissimo e quindi ogni volta che entro ed esco dal bidon si la largo quindi tra un poco lo vado a impuntare sul retro ok le ho impunto adesso perché sennò dopo non riesco quindi per impuntare il filo per mettere ovviamente del nuovo filo vado sempre all'interno in prossimità dell'ultima perlina inserita ecco se sfila di nuovo l'ago aspettate ah è giovedì, beh giovedì gnocchi buono ah io continuo a stirare in pratica sto facendo da sottofondo al tuo stirare selvaggio mario rosario allora ormai tutto fa male ogni tanto uno sfizzetto ce lo togliamo eh io non ho neanche quello neanche quello posso tipo ci sono alcune persone che magari anche se hanno il nickel, il lattosio ugualmente mangiano cose che ne so di fast food oppure merendine confezionate io non posso assolutamente poi per bloccare ovviamente ripasso sotto o la lesi o la bead foundation guardate in questo modo un leggero pizzico e poi ripasso nuovamente in quel punto per andare a... cioè davanti il filo non passa è solo sul retro del lavoro vado a dare dei piccoli puntini in modo che vado a bloccare il filo poi una volta che ho dato 2-3 puntini creo l'asolina aspettate che creo l'asolina creo l'asolina e ripasso all'interno dell'asolina con l'ago per andare a bloccare con un nodino e poi di nuovo ripasso leggermente nel bead foundation e poi ovviamente taglio il filo lascio sempre una piccola codina non taglio proprio sotto sotto ma lascio sempre una codina stessa cosa anche per l'inizio del lavoro lascio sempre una piccola codina che poi queste codine le andremo a a coprire dopo con la finta alcantaro, la pelle cioè quello che avete io ho questo qui questo che sul retro ha questa tipo una sorta di maglia fitta e sul davanti è fatto in questo modo tipo un effetto effetto vellutino mi trovo bene con questo qui anche è quello lì che poi ho utilizzato anche per queste due spille che vi mostravo prima sia dell'uccellino sia della farfallina poi per rimettere per inserire il nuovo filo ovviamente sempre il solito discorso sempre i nodi iniziali e do qualche puntino e poi riparto dal punto in cui ho lasciato la lavorazione allora fai come me astemia completa così abito proprio sì infatti sono diventata astemia tu tieni conto che l'unica diciamo guccino a capodanno è stato e neanche più di tanto cioè proprio così e già ero tutta bella euforica cantavo e ballavo zompavo allora sabato e domenica ci tieni compagnia sabato sicuramente infatti le live voglio farle dal lunedì al sabato e domenica domenica vorrei tenerla cioè vorrei perlinare ugualmente però non tramite live siccome voglio partecipare a un contest indetto da Stephen Ways per quanto riguarda gli orecchini voglio partecipare anzi vi esorto anche voi a partecipare se non avete visto il contest credo che sia davvero un'ottima un'ottima prova per mettersi alla prova e sperimentare alla grande con qualsiasi tipo di perlina quindi la domenica me la tengo per realizzare qualcosina per presentare poi a Stephen ecco perché non faccio la live di domenica la domenica sempre berlino ma da sola con spotify a mille così ascolto la musica ok aspettate che non riesco che un pochettino il il miyuki si sfilaccia la parte iniziale dovrei utilizzare la cera ma io la cera mai utilizzata in vita mia e quindi faccio un po' di difficoltà di inserire il filo aspettate che vi leggo mi sono persa un bel po' di messaggi quindi sta venendo proprio bene al momento è anche sotto sopra grazie qui allora il fetto sottile dovrebbe andare bene posso studiare la sequestria oddio il fetto potrebbe anche andare bene però dovete tenere conto di un po' di cosine cioè nel senso quando andate a creare non tirare tantissimo il filo perché sennò vengono quegli avvallamenti bruttissimi e la creazione non è non è così vedete non è così liscia se tirate troppo con con il filo dopo vi vengono tutti quegli avvallamenti bruttissimi da vedere e poi un altro accorgimento è quello di inserire all'interno della della creazione cioè una volta che avete decorato tutta la parte qui iniziale cioè una parte frontale sul retro andare a inserire un cartoncino in modo da dare ancora di più struttura alla spilla e all'elemento appunto in good and brother tipo questo passaggio l'ho fatto all'interno ovviamente lo andrò a fare anche questa spillina non oggi perché ancora devo finire finire e terminare tutto però l'ho visto l'ho fatto però l'ho fatto in questo in questo uccellino e anche nella farfalla d'aia in pratica una volta fatto tutta la lavorazione sul retro ho inserito un cartoncino e poi ovviamente sono andata ad incollare anche questo tessutino e poi a contornare tutto con il brick stitch qui nei bordi in modo che vengono belle belle solide e compatte le creazioncine in good and brother ovviamente questa lavorazione del cartoncino va fatta solo per spille oppure qualcosa per decorare una borsa un cappello non va fatta quando bisogna realizzare una collana in good and brother perché non vogliamo che resti rigidissima ma che segue appunto le forme del del corpo ecco cioè non vogliamo uno stoccafisso come collana ecco quello è il senso allora aspettate che leggo se al cantano qualche pezzo di pelle leggera sì vero si può sostituire sempre il stesso discorso anche con la pelle la pelle anche non tirate tanto con l'acqua e con il filo c'era anche un'altra ragazza che aveva sostituito la resistive staff e la e la finta alcantara oppure il bead foundation con avete presente le striscioline per fare la ceretta io non ho mai provato però ho visto che lei realizzava con cioè realizzava alcune cosine bead and brothery con quello non ci ho mai provato quindi non vi so dire la resa in quel caso com'è anche perché le striscioline quelle per la ceretta sono cioè sono leggerissime non sono cicciottelle come come questo però se volete sperimentare e quando finisce tutto sto putiferio tenete conto che il bead foundation non costa neanche tanto eh l'analisi staff costicchia un pochino un pochino il bead foundation io questo l'ho pagato 1,60 euro l'ho preso da l'uvibiju e con il quadratice con questo pezzettello credo che andrò a fare diverse spille cioè questa è quella che abbiamo abbiamo tagliato e mi resta ancora tutto questo da utilizzare quindi non non è costoso come come materiale secondo me vi dura anche tanto specialmente se poi come me non è che realizzate eh tantissime cioè tante cose grandi ma sempre così ne molto piccoli a mo' di spilla allora vado a impuntare anche il secondo filo che finalmente sono riuscita a fare il nodino parlando parlando non sono riuscita ok un punto anche ok e poi mi sposto piano piano ovviamente da qui non mi vado a spostare direttamente qua perché poi sul retro faccio un pastrocchio farò sempre di piccoli punti per avvicinarmi al punto in cui poi dopo devo continuare la lavorazione perché sennò poi sul retro davvero viene una cosa bruttissima invece vogliamo che anche il retro sia sia una cosa carina da vedere non i pastrocchi anche poi tenendo conto che poi se passiamo da qui e arriviamo qua sul retro avremo un filo poi se andiamo anche a tirare utilizziamo della della pelle o del qualcosa di morbido dopo il lavoro si arriccia quindi sempre piccoli puntini un po' alla volta e realizziamo la nostra decorazione ok sono quasi arrivata in prossimità di nel frattempo vi leggo allora ma il cartoncino l'ho tagliato con la forma della farfalla e dell'uccellino si si se vedi bene i video una volta che ho realizzato la decorazione dopo vado a realizzare il cartoncino ovviamente più piccolo rispetto alla forma tipo per esempio la farfalla e così no ovviamente tolto il bordo era abbastanza grossa il cartoncino l'ho ritagliato che era di questa misura che arrivava in prossimità di questa perlina qui bianca in modo da lasciare un po' di spazio per dopo fare anche il contorno non possiamo non possiamo inserire un cartoncino che sia della stessa grandezza della decorazione quindi sempre un po' più piccola rispettando ovviamente sempre le forme del del soggetto che stiamo realizzando nel caso della farfalla rispettiamo appunto le ali la forma e poi andiamo a incollare sempre tutto con l'artiglio io mi trovo bene con l'artiglio ma qualcuna credo che utilizza anche un altro tipo di colla tenete conto che questa qui la lascio da asciugare per un bel po' di tempo anche per 12 ore 14 ore in modo che dopo la creazione è bella è bella asciugata e vado a lavorare su non sulla colpire fresca ecco vado a lavorare sempre su una creazione bella incollata ecco sono uscita finalmente ok ci sono proseguo e vado a fare la stessa cosa come ho fatto anche qui in punta quando arrivo qui cambio direzione vado a terminare l'altra l'altro pezzettino di cuoricino e finalmente ho finito il contorno del del cuoricino ci ho messo un'eternità ma ci siamo ok poi nel caso in cui c'è del Pid and Brodery una volta che vi ho mostrato appunto come si fa il contorno stesso discorso andrà fatto anche per per la parte dell'arcobaleno quindi in ogni strisciolina scegliere il colore che vi dicevo prima tutti della stessa della stessa finitura in modo che viene molto carino come effetto e lasciare sempre il per esempio qui fare una una strisciolina con le perline non so tipo rosa poi celeste verde fino a che creiamo appunto tutto tutto l'arcobaleno e e quindi viene una cosa abbastanza abbastanza carina e colorata poi poi per il bordo e tutte le altre la decorazione in brick stitch la possiamo fare anche insieme poi per quanto riguarda la decorazione ma ognuno la può fare come come preferisce non ci sono limiti anzi da molto spazio alla la fantasia cioè voi potete fare qualsiasi cosa come come vi suggeriva anche prima monia il cuoricino potete anche realizzarlo a mo' di a mo' di a mo' di non mi viene il nome a mo' di bandiera ecco non mi veniva il termine bandiera come dicevo a questo punto ho terminato questo lato vado a ripassare all'interno e poi mi sposto sempre nella perla cioè in questo punto qui che è in prossimità a questa perlina qui laterale e continuo e realizzo anche quest'altro spezzettone spezzettino non spezzettone proprio in questo caso siccome sono ripartita da capo posso inserire anche due perline ok poi ritorno indietro sempre se becco il punto giusto perfetto un attimo che mi sa che mi sono perso un bel po' di messaggi perché vedo che il computer scendono i messaggi e mi sono persi allora io ho usato le strisce per la celetta ah eri tu mamma di rosaria mi sa che anche un'altra ragazza il lavoro non viene rigido ma ammollo ah ecco anche hai utilizzato anche il cartoncino poi all'interno allora grazie Giulia cara mi piacerebbe moltissimo un delfino con gli svaloschi ma parli in di den brodery vita ok maria vita a domani allora un bacio a domani non è che non è che l'epito non è che il dolfino si può fare in diversi modi cioè la parte la pancina e la parte della faccia si può realizzare con con le perline poi andare ad inserire non so lungo il dorso del delfino si può si può inserire qualche perlina particolare per creare un effetto tipo ho visto anche molte volte che all'interno di queste creazioni utilizzano le paillettes le paillettes non messe cioè attaccate appunto al bead foundation o alla resistive staff ma messe appunto alzate in modo da creare diverse diverse trame particolari no e niente sono arrivata finalmente sono arrivata finalmente qui risbuco ovviamente dalla perlina andando verso il retro e posso anche andare a fare un giro non tirando il filo eh dobbiamo soltanto ripassare in modo da dare anche quel senso di continuità che vi parlavo prima delle perline quindi ripasso in tutte le perline così le andiamo a dare quel senso di continuità ovviamente fino fino a questo punto cioè non posso ripassare in queste perline qui accanto qui andrò all'interno del bead foundation e poi stesso discorso di nuovo risbuco un po' più in là per per ripassare ovviamente con l'ago e con il filo all'interno di tutte le perline ok ok sono ripassare in tutte le perline e questo ragazze e questo ragazze è al momento il risultato rientro nuovamente nel bead foundation per andare a fissare questo filo e gli ecco il cuoricino ciao chiara aspettate che mi sono scordata qualche messaggio dietro allora no niente cartoncino ero le prime armi si ah ok quindi provo a metterci il cartoncino all'interno con con le striscioline quelle di per fare la ceretta in pratica ora direttamente sulla pelle si non è male il risultato sulla pelle anche se la pelle è un po' cioè durante il tempo non è magari come un tessuto così che col passare del tempo diciamo resta invariato la pelle tende anche una di buona di buona qualità tende un pochettino sempre un po' a sgranarsi o a spellarsi quindi state attente quando lavorate con dei pellami del genere allora andiamo a posizionare anche questo ok e ho fatto benissimo a non inserirlo prima ma contornare prima il cuoricino perché vedete la parte del diciamo del culetto della goccia non entra perfettamente oppure volendo entra ma dopo andiamo a deformare la decorazione quindi vado a posizionarlo un po' così così l'ho imposto in questo punto dove è presente la punta e invece poi qui in questo punto qui in alto poi andrò ad inserire dei cipollotti o delle rocaille per creare un effetto sempre molto carino per creare un effetto sempre molto carino allora quando registro un audio e non ho le perline davanti no per le spiegazioni mi faccio sempre un sacco di di problemi penso di non essere mai chiara allora ora lo sto ripassando sempre con puntini molto piccini piccini qui mi sposto in pratica sulla parte in basso per andare ad agganciare il castone con con la cucina che poi è carinissimo sto ok si andiamo ad incastrarlo qui devo fuoriuscire ovviamente sempre in prossimità dei fori ne ho qui uno e un altro qui in basso quindi mi sa che sono uscita un po' troppo cioè sono andata un po' troppo oltre sbucco qua vediamo un po' se va bene vediamo un pochino il foro ah il foro ah ecco che stupidotta che so in pratica il foro il primo foro corrisponde proprio a questa perlina qui questa che è qua cioè la parte interna del cuore corrisponde proprio in quel punto quindi devo ritornare indietro vabbè intanto ho fissato il filo quindi non fa niente piccoli sempre puntini e fuoriesco sempre da quel punto qui in alto che vi dicevo voi se non avete questo castone con questa gocciolina vi ripeto potete inserire cioè sempre partendo sempre dai bordi no? più esterni andare ed inserire vedete mi butto un po' di perline all'interno del cuore per darvi un po' un'ottica potete inserire delle perline o opache o anche questo effetto questo effetto tipo trasparente in modo da creare questi punto luce poi sempre perline rocaille 11.0 che abbiamo utilizzato anche per il bordo uno qua e là e possiamo utilizzare anche un'altra nuance di rosso se avete diverse diverse sfumature di rosso cacciatele tutte e utilizzatele per il cuoricino vanno bene anche qualche 15.0 se volete avventurarvi anche con le 15.0 tipo per esempio ho questo rosso che ha un po' di sfumatura all'interno volendo si può utilizzare anche questi qua che hanno questa finitura AB così da rendere il lavoro ancora più particolare e carinissimo mi sono dimenticata le perline rosse di là ma mi do un morso da sola eccole le queste sono le opac rainbow cherry è tipo una sorta di non so se si nota ha sempre anche anche queste un po' di di sfumature all'interno che vanno dal giallo al fucsia e qualche perlina quella che poi tenendo conto che poi andremo utilizzare anche in questo caso del rosa e del giallo che riprendono diciamo queste sfumature di queste perline così da dare un effetto ancora più più carino alla lavorazione e alla creazione aspettate che vi leggo eh bravissima Giulietta mia sei convinta ora che è vero sì dai mi sto 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 iniziando a capire che magari non so tutta da buttare che riesco a spiegarmi anche senza senza perlina alla mano allora perché non la metti nella parte più larga del cuore perché nella parte più larga non so dopo mi rimane questa puntina un po' su invece invece in questo in questo modo da ancora un senso di continuità al cuoricino cioè da questo lato questo lato luccicoso e poi invece quest'altro andare a giocare con i cipollottini me lo immaginavo così non so perché così mi resta sta punta un po' non lo so non mi ispira tanto in questo in questo punto mentre mi ispira di più così poi ovviamente vi ripeto sta a noi decidere come giocare con le perline a seconda di quello che ci ispira il momento però messa in questo punto mi immagino già che per esempio che qui in punta non devo inserire nessuna perlina perché ovviamente il lavoro cioè non si nota la parte bianca invece per quanto riguarda qui in alto posso andare ad inserire sempre qualche cipollottina quella e poi per andare a ricoprire questo puntino cioè questo punto qua vado ad inserire una rocaille 15 0 così mi va a bloccare e mi va a colorare questo punto qui e perciò l'avevo pensato in questo modo così da anche una sensazione non so di cuore un po' di viso con questo taglionetto ok ho letto tutti i messaggi allora quindi dove sto sto qua fuoriesco da in prossimità di questa perlina e vado finalmente ad agganciare il mio castone con goccina appoggio il lavoro così e poi vado semplicemente a rientrare con l'ago e con il filo sempre in prossimità del castone cioè molto attaccato al castone e questo passaggio posso rifarlo due tre volte in modo che finissimo per bene ad ogni foro per ritornare indietro indietro solito di discorso non vado mai dall'altra parte e creo questo lungo collegamento sempre dei piccoli punti mi posiziono in questo lato e di nuovo ripasso con l'ago e con il filo all'interno del castone ok non fate l'errore di andare direttamente da quest'altro lato perché dopo la lavorazione viene una schifezza quindi piccoli puntini anche se dovete che ne so alzare al momento la goccina piccoli puntini per ritornare di nuovo indietro almeno questo è quello che faccio io poi non so se altre creative fanno in modo diverso però io preferisco lavorare punto per punto ok si allunga ovviamente il lavoro ma chi se ne frega almeno avremo un lavoro fatto come si deve come si deve ok questo è già il quarto continuo e il quinto fuoriesco sempre dalla perlina questa qui ok e ripasso nuovamente nel castone sempre nel primo foro ok sono ripassato due volte volendo riposso passare anche una terza volta aspetta che leggo ragazzi sta nevicando da te qui nevicava ieri sera fortunatamente non ho attaccato se è tutto sciolto allora comunque mi piacerebbe con perle e bicone visto che oggi ci do il caperino che amo mi manco del filo e la farfalla si i biconcini in pratica non mi ricordo se se ti sei collegata all'inizio vita i biconcini avevo intenzione anche di inserirli qui nella parte una volta realizzate tutte le sfumature dell'arcobaleno qui in prossimità di ogni colore andare ad inserire un bicono svaroschi qui pendente però questo ovviamente verrà fatto proprio alla fine quando andremo a realizzare anche il contorno in brick stitch una volta chiuso il lavoro potremmo andare ad inserire questi bicono per creare una volta con questi bicono sempre tutti colorati che danno sempre una continuità al al nostro al nostro arcobaleno allora ho capito dove sbaglio a volte ok Roberta questi video vedono tanto io invece mi diverto tantissimo a fare live poi a parlare con voi interagire con voi mi fa sempre piacere qui piove qua fortunatamente tiene ancora è tutto nero ma tiene ancora anche perché già stanotte ha fatto una bella ok fa tempo dal puntino dicevo stanotte pioveva qui da me mi trovo appinito aspettate che se ne è uscito lago cioè se ne è uscito il filo sempre se ce la faccio eh io spero comunque che in queste live vi trasmetto positività vi faccio fare una risata spero almeno di di darvi un po' di di tranquillità e poi se in questa in questa ora riesco anche a a spiegarmi o a farvi vedere qualcosa di creativo benvenga quindi è quello perché faccio le live tutti i giorni perché di solito lo sapete non ne realizzo ne realizzo massimo una settimana quando appunto voglio realizzare l'episodio di creame insieme con le perline invece in questo caso volevo proprio stare vicino ad ognuno di voi e trasmettervi un po' di un po' di positività anche se a volte manca anche a me eh anch'io sono mi sveglio ed è tutto nero però non non ci dobbiamo basare sulle sulle cose negative della vita quindi se riesco a trasmettervi questo sono contentissima ok altri due punti e basso nel castone ok allora grazie vita sei un genio me lo prego grazie anche qui non si posa ora abbiamo le saline che fanno da barriera non vederle il 25 marzo e fuori dal normale oddio mica tanto Maria Rosario ricordo Pasqua di una quindicina di anni fa ma anche di più sì perché erano i primi anni che vivevo qui in Abruzzo io tenendo conto che io originaria sono napoletana quindi passare da un inverno diciamo napoletano a un inverno abruccese la differenza si nota si nota tantissimo e mi ricordo che ventisina ventina di anni fa all'incirca Pasqua io avevo si avevo preso una mi savo una giacchettina di jeans con una magliettina con dei volà che era molto era molto leggera come magliettina avevo comprato quella volevo per forza indossarla a Pasqua andammo a fare una un picnic con degli amici e tutto mi son gelata perché poi ovviamente andando ma neanche in montagna andando qui in queste parti qui nevicava cioè sapeva nevicava e noi ci siamo ritrovati in mezzo alla neve con queste camicette vestiti tutti leggeri anche quelle sono esperienze delle belle bronchite bronchite in giovane età quindi io mi ricordo sempre che o Pasqua il compleanno di mia sorella fa sempre il tempo bruttissimo diciamo che era strano in questi giorni trovare 19 gradi la mattina quella sì che come si dice marzo è pazzo allora aspettate certo che ci riesci mi fa piacere Roby da me freddo vento e acqua neve cavolo la mia figlia nevica ci vorrebbe il caldo invece eh lo so oh carola dai ma mi fate mi fate combuere sei un tesoro ma ti ringrazio sei di ottimo con compagnia ecco non riesco neanche più a parlare e per qualche ora non penso mi fa piacere ma davvero tanto anzi devo ringraziare io voi perché mi fate compagnia e così ci facciamo compagnia in queste in queste lunghe giornate che sembrano non passare mai allora mori il buco da quest'altro palato dai il buco da quest'altro lato e ripasso di nuovo il filo per l'ultima volta perché è già mi sono scocciata di bloccare questa di bloccare questa goccia ok sempre se becco il buco perché poi ovviamente devo bloccarla anche in punta perché mica la posso lasciare che impinna una goccia che impinna ok basta sono ripassata già tre volte all'interno di questa goccia no vado a fissare la parte in basso sempre mi sposto sempre con piccoli puntini ok si vado a bloccare un'altra volta limite la punta la posso cioè posso ripassare due volte anche perché c'è neanche con una rapina questa goccia si stacca da qua su allora ecco qua sono in prossimità del foretto e ripasso ok ah volendo invece di ripassare dall'altro lato posso fare anche dei puntini qua al coro in modo che poi mi ritrovo sempre in prossimità del foro e ripasso dall'altra parte come non gnocca prima sono andata dall'altra parte quando poi potevo fare così ok però va bene ok così ripasso direttamente nel foro sempre se lo becco perché non lo vedo foro dove sei aspettate giro perché non lo vedo eccolo qua perfetto ci sono riuscita a bloccarla ok aspettate che leggo che mi sono persa un sacco un sacco di messaggi mi sono assentata un attimo monetta ma dove vai? per fare una cosa cosa hai fatto ne? fammi sapere come fa freddo e piove allora sei andato a i piccoli birbantelli ti ti reclamano che mi sono persa ti sei persa tante chiacchiere? io che mi sono commossa in pratico ho fatto il bordo e poi ho agganciato questa poi ho fatto tante tante chiacchiere ciao Eli tutto a posto te so? come va? ok ho agganciato sta tizia ora pensiamo a come creare la parte di qua io mi butto un po' di perline dentro così capisco come mettere il tutto allora al limite qui per creare ancora l'effetto del cuore un po' diviso in due si potrebbe anche realizzare qui una sorta di fila sempre di rocaille 11.0 che vanno a collegarsi qui alla punta qui in alto oppure già andare con tipo una rocaille 11.0 in questo punto poi un cipollottino messo in questo modo e andare a a creare non una decorazione ordinata come abbiamo realizzato appunto per il bordo ma andare ad inserire qualche perlina qua e là e riempire piano piano tutti gli spazietti vacanti per creare un effetto un po' un po' caotico un po' così un po' scompigliato un scompigliato però voluto quindi un po' così a casaccio qualche perlina qua e là una rocaille un cipollottino cristal cioè non so se rendo buttando le perline così all'interno della lavorazione per per farvi capire in che modo andrò a fissare appunto il tutto poi vi ripeto io con questo piccolo cuoricino magari continuo a realizzare sia il cuoricino e sia la parte e a colorare la parte del della parte del rainbow cioè mi viene in inglese ma non mi viene in italiano per completare la parte dell'arcobaleno ecco e poi casomai domani visto che domani è venerdì se non erro facciamo insieme il la parte del cartoncino la parte di andare ad incollare la base questa qui per per spilline e poi vi spiego come si si realizza appunto la cucitura per andare a ad inserire anche questa parte qui sul retro ovviamente del lavoro e per creare poi la l'ultimo passaggio che è la rifinitura in big stitch e che ne pensate? proseguiamo in questo modo cioè nel senso lo coloriamo come cioè voi colorate le spille come nei colori che preferite e tutto poi domani domani ti sbagli? ah è giovedì domani ecco ho saltato un giorno e quindi ci ritroviamo mi parte anche la voce ci ritroviamo già con almeno la parte diciamo iniziale tutta bella colorata e così domani proseguiamo con il secondo step tonino rifinitura retro e rifinitura dei bordi ok così così non faccio 50.000 puntate su una spillina diciamo poi sta a voi fare il disegno scegliere i colori poi ognuna delle proprie spille sarà personalizzata a seconda di di come di come la preferite ecco aspettate di mettere due nuove perline qui nel lato però l'effetto un po' caotico mi piace mi piace assai e volendo al cuoricino direi soltanto tutte le tonalità sfumature di rosso sì aspettate che leggo i messaggi che mi sono persa un bel po' allora ce la fa a farci vedere come metti i cipollotti provo a impuntarlo qualcuno Angie adesso insieme a voi così vi faccio vedere l'effetto un po' caotico che intendevo prima questa chicoccia richiede molto tempo e noi ne abbiamo con i castoni dai fermate potete anche mettere un rivoli o una goccina di quelle che vi mostravo prima queste qua le incollate e poi dopo realizzate l'incastonatura o al peyote come ho fatto cioè ho fatto nel tutorial della 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 farfalla daia oppure potete realizzare un'altra tecnica che è anche più veloce dell'incastonatura al peyote questa qui questa realizzata appunto in square cioè mi ricordo che si chiama square non vorrei dire una cavolata se è qualcosa correggetemi in pratica c'è ci sono le rocaille 8.0 e le rocaille 11.0 che vanno a realizzare appunto l'incastonatura l'incastonatura davvero semplicissima da realizzare anche veloce molto veloce rispetto ovviamente al peyote perché il peyote potete vedere restano anche un po' più alte l'incastonatore invece questa resta un po' più piatta e tenete conto che anche questa era una goccina sempre in resina bella cicciottella per mettere queste solito discorso create quella sorta di X con un cutter con un taglierino e poi andate ad incollarla con la colla allora aspettate che leggo altri messaggi si tutto bene mi fa piacere Eli allora ti sbagli? questo già l'avevo letto si sono d'accordo perfetto io ho sempre problemi con la rifinitura finale va bene Eli poi dopo domani parliamo in dettaglio della rifinitura anzi se vuoi se vuoi perlinarli insieme a noi sei ben accietta lo sai e gira l'uccellino poi fai vedere com'è bello ti faccio vedere l'uccellino ma andiamo che sono queste richieste un po' eh eh l'uccellino eccolo se avete anche le catene strass viene una cosa davvero bellissima perché non so se si nota qui nella codina dell'uccelletto Alfonso ho messo delle piccole catene strass che mi ha gentilmente regalato la mia unietta monietta e questa è quella catena strass quella piccina che mi ha regalato l'altra volta infatti l'ho utilizzata qui qualche spezzone e viene davvero carissimo per dare ancora un tocco in più e particolare alle nostre creazioncine allora faccio vedere anche la parte retro la parte avanti Alfonso l'amico nostro allora muovi mostro anche il fatto dei cipollottini così dopo vi lascio in santa pace non smetto di di parlare allora in prossimità qui della punta vado ad inserire come dicevo prima una rocaille fuoriesco vedete sempre in prossimità del castone inserisco una sola rocaille in questo caso perché ovviamente il spazietto è molto molto piccino e mi rinfilo nel cioè parallelo sempre punti molto piccoli sempre tenendo conto che abbiamo inserito una sola perlina vedete e la perlina va a bloccarsi in questo spaziettino che poi per essere pignola perché sono pignola qui ci sta un altro pochettino di spaziettino qui in basso non so se si nota in live ma io lo vedo e qui andrò ad inserire una rocaille 15.0 perché sono pignola e quindi andiamo ad inserire una rocaille 15.0 quindi ripasso nel punto ecco qua in questo punto qui inserisco una rocaille 15.0 due le ho messe che non mi ricordo queste sono le 11 queste sono le 8 ecco la 15.0 ci mettiamo questa qui che è un po' più scuretta ma non fa nulla ci piace e ovviamente le 15.0 se le utilizziamo per andare a ricoprire questi piccoli fori tenete conto che poi durante qui durante la lavorazione del cuoricino ne inserite una quella in modo da da avere sempre lo stesso effetto diciamo visivo di tutti i colori e poi rivado sempre in parallelo per andare ad inserire la perluzza in quel punto lì poi se non dovesse vedete se resta sempre ancora un po' di spazietto non vi preoccupate perché ovviamente io posso quando vado ad inserire il cipollottino qui in questo punto fuoriesco con l'aco e con il filo sempre vicino a questa perlina qui in prossimità la 11.0 e poi una volta inserito il cipollottino ovviamente il cipollottino va a creare una sorta di una leggera pressione in modo che poi tutto il lavoro è bello compatto e non ci sono dei buchetti visibili ecco quindi una volta inserito sempre dalla 11 sempre molto molto vicino alla 11 ok e inserisco appunto il cipollottino poi sta a voi decidere la direzione che vogliamo dare appunto al cipollottino se messo così in orizzontale se messo in verticale sta a voi deciderlo io al momento lo faccio scivolare così sul filo lo porto alla fine della lavorazione in modo che decido la come impuntarlo se così o impuntarlo se andarlo a impuntare in questo modo cioè vedendo appunto la direzione che voglio dare appunto al nostro cipollottino niente io lo aggancio in questo modo così ripercorro anche la parte questa del castone ok e poi ovviamente io adesso sono ripassata una sola volta all'interno delle delle perluzze e ripasso anche una seconda volta per andare a sistemare sistemare e rendere aspettate che ok la decorazione in questo modo si nota e riscendo sempre magari per una 15.0 possiamo ripassare anche una sola volta anche perché è una perlina molto piccola quindi non non ha bisogno di ripassare tante volte per poterla per poterla in qualche modo fissare la lavorazione però nel caso in cui andiamo ad inserire i cipollottini quello sì poi nel caso in cui vicino a questo cipollottino voglio inserire un altro cipollottino in in questo modo cioè risbuco sempre della dalla bead foundation inserisco un cipollottino trasparente lo porto sempre alla fine del filo e lo vado a impuntare vedete in questo modo mentre questo è in orizzontale questo lo impunto in verticale e così poi vado a ricoprire gli altri spazietti con altre perline più piccole il solito discorso ripasso una seconda volta per fissare per bene anche il secondo cipollottino e poi sta a voi decidere la trama del del cuore mentre per le linee è semplice perché ovviamente basta rispettare la 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 penna cioè le righe che inizio lavoro per quanto riguarda le decorazioni interne come riempire questi spazietti possiamo possiamo dare largo alla creatività aspettate che vi leggo ho aiutato mia sorella ah ok che belle queste spille grazie Elie Alfonso si Alfonso allora se mettiamo la goccia cabosson come farò io va incollata da spellata aspetta mi sto sto leggendo malissimo va incollata e da spezzi va incollata da aspettare che la colla asciughi certissimo richiede tempo e devo vedere se ne ho una rossa o rosa almeno si ovviamente devi attendere che la colla tiri e il cabosson sia ben fissato appunto al panno sotto o alla lacy o alla bead foundation poi una volta che si è asciugato una mezz'oretta anche una ventina di minuti va benissimo e vai a fare questa decorazione qui oppure quella al peyote però tieni conto che con questa puoi utilizzare le rocaille sia della toko e della Miyuki invece per quanto riguarda l'incastonatura fatta con la tecnica peyote io preferisco le delica danno il lavoro ovviamente danno anche la forma molto molto carina all'incastonatura però volendo potete fare anche con le rocaille della Miyuki della toko mh perché viene troppo bombato per i miei gusti quindi poi ognuno fa come come vuole allora aspettate che vi leggo l'ultimo messaggino di Robby in cabosson se sono svaroschi vanno bene certo anzi se sono svaroschi sicuramente vanno bellissimo perché poi danno quella luce tutta particolare che danno soltanto gli svaroschi assolutamente svaroschi forever anzi io peccato che non avevo un castone c'è una goccina di questa misura perché sicuramente l'avrei sostituita e avrei messo qualcosa di svaroschi per quanto riguarda poi alla decorazione finale con i bicono e tutto vi rimando ai prossimi al prossimo al prossimo episodio dedicato appunto al Bid & Brodery cavolo sono un'ora e cinquanta sei che parlo certo che io sono sono un po' sempre un po' matta cioè nel senso io dico un'ora dalle 4 alle 5 e poi alla fine chiudo sempre chiudo sempre alle 18 sono sempre io infatti mi sentivo che ancora questa è a bocca un po' asciutta Mi faccio un altro sostanzio Ok Ragazzi è chiaro il passaggio per quanto riguarda i cipollottini Per quanto riguarda la decorazione Poi per le altre linee Vi ripeto E' come lo stesso identico discorso Di quando abbiamo appunto tracciato Il bordo del cuoricino Quindi stesso discorso Fuoriesco sempre con l'acqua e con il filo da questo punto E poi vado ad inserire tutte Rocaille Della medesima tonalità In questo bordino Poi sempre accanto Senza lasciare spazietti Mi raccomando siete molto pignoli in questo Senza lasciare spazietti Vado a realizzare anche il secondo, il terzo, il quarto e il quinto Una tirata d'acqua Ok Ragazzi io accanto nostro lavoro Mi metto al lavoro per quanto riguarda Il sole di primavera Perché l'ho caricato su youtube Adesso devo mettere solo la copertina Che è ancora la copertina Per l'immagine Del video E poi vi metto anche online quello Quando lo volete vedere Stai lì sul canale Lo spammo un po' in giro Di vari gruppi E niente Poi questo me lo Me lo continuo stasera Da sola Sulla soletta Poi domani Vi faccio vedere A che punto sono arrivate Voi mi raccomando Lavorate anche Alla vostra spillina E poi domani Se volete mostrarvi Il vostro lavoro Mandatemi un messaggio Su messenger O chi avesse il mio numero Anche su whatsapp Sono ovunque Anche instagram Se non avete Se non avete facebook Che sono state notifiche Ah vi devo due notifiche Vabbè Niente ragazze Io Vi saluto qui Spero Come sempre E' vero Per prima dire La 16 Alla 18 Sì ma a volte A volte ho chiuso anche Alle 17 Solo che mi devo proprio Mettere tipo Il cerotto O lo scotch In faccia Per non farmi parlare Perché poi ho la chiacchiera lunga Poi mi fa piacere Ovviamente Stare in vostra compagnia Quindi parlo 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 E mi dispiace Per chi magari La live Se la ho Che si deve sorbire A me che parlo Per due ore Però vabbè Mi mette Tipo il sottofondo musicale Io che parlo A ruota libera E Però mi fa piacere Cioè ovviamente Se parliamo Di una tecnica Particolare Ci tengo a dire Tutto quello che so Così Da condividere tutto Non ci sono segreti Su questo canale I segreti di Fatima Sono altrove Io preferisco dire tutto Mi fa piacere Ok Buona serata E grazie a voi A tutte quante Per la compagnia E mi raccomando Ci vediamo domani È solito orario Dalle 16 alle 18 Dalle 16 alle 17 Prometto domani Di essere breve Promesso Faccio tipo una sorta Di Di Giuri in giurello Ok Ci siete O già siete sparite No ci siete ancora Vabbè Perché Per vedere chi è online Devo vedere il cellulare Non dal pc Perché dal pc Non mi dà Non mi dà Nessuna informazione Ok Un bacione grande Ragazze E passate Buona serata Buona cena A tutte Io questa sera Farò la La Come si chiama La schiacciata pugliese Si chiama così Lo sto a dire Una cacchiata L'ho vista Nelle ricette Di Benedetta Parodi Quindi Stasera Replico Quella ricettina Lì E stasera Mi mangio la schiacciata pugliese Ok Un bacio grande Nel frattempo leggevo Ecco perché ho fatto la pausa Un bacio grande E ci vediamo domani Solito orario In vostra compagnia Ok Ok Roby Attendo le foto allora A dopo Un bacio a tutte Ciao Io Chiudo le live Sempre allo stesso modo Sempre a stare Il sederotto Dal letto Bacioni Ciao Ciao Ciao